Anche a Modica celebrata la Virgo Fidelis, una ricorrenza molto cara all'Arma dei Carabinieri. Alla presenza di autorità civili e militari e un folto pubblico, il vicario del Vescovo Monsignor Angelo Giurganella ha ufficiato la Santa Messa. Indubbiamente la patrona dell'Arma dei Carabinieri, Maria Vergine con il titolo di Virgo Fidelis, oltre a celebrare la nostra Santa Patrona, festeggia anche oggi il 76esimo anniversario della battaglia di Culquabert. Momento storico, fatto d'arme, accaduto nel 1941 durante la Seconda Guerra Mondiale in Africa Orientale, nel quale il primo battaglione dei Carabinieri mobilitati insieme agli Zaptie tentò una storica, eroica difesa della Sella Culquabert e nella quale le eroiche virtù militari italiche furono esaltate. In questa ricorrenza noi come grande famiglia dell'Arma ci stringiamo e rivolgiamo la nostra preghiera alla Santa Patrona affinché aiuti il nostro servizio a servizio appunto dei territori e delle genti che ci sono poste nelle nostre responsabilità.